Che cos'è AIL? AIL è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e i Mielomi. Si interessa della ricerca scientifica, assistenza domiciliare e tutto ciò che riguarda far star bene le persone che non stanno bene. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è raccogliere fondi e solidarietà, soprattutto per la ricerca, per l'assistenza domiciliare, per tenere aperte e far funzionare benissimo le nostre case AIL, per sostenere gli infermieri, i medici, tutto ciò che riguarda la ricerca. Dove e quando saranno dislocati i banchetti con la vendita delle uova di Pasqua? I banchetti sono situati in tutta Italia, quindi se voi andate sul sito www.ail.it potete trovare il banchetto quasi presso la vostra abitazione perché siamo veramente tantissimi e tantissimi volontari a vostra disposizione per informazioni e per dare un sorriso anche a chi prendendo l'uovo lo vuole sentire dire. Quando è nata questa associazione? Il 31, il primo e il due, è la ventiquattresima edizione per quello che riguarda le uova di Pasqua. Però prima abbiamo iniziato con le nostre stelle di Natale, quindi il nostro motto è uova e stelle per aiutare gli altri.